Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo, che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare. Vuoti gli occhi, è freddo il grembo, come una ranna d'inverno. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole. Scolpitele nel vostro cuore. Stando in casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca. I vostri nati torcano il viso da voi. o vi si sfaccia la casa,